Una delizia, una delizia perché gli onomastici al sud Italia, voi lo sapete, sono molto importanti ma sono anche tanti, quindi non è facile, non è semplice ricordarsi tutte le date degli onomastici. Santo Stefano, essendo anche una festa comandata, diciamo che quasi tutti si ricordano del tuo onomastico e quindi quando cade poi il 26 dicembre tutti sanno che il tuo onomastico ti arrivano più auguri. E poi una cosa che mi lega molto a mio nonno perché io come usanza appunto del sud Italia eredito il mio nome da quello di mio nonno e quindi era un motivo in più per festeggiare, per sederci assieme a casa nostra, insomma era una festa molto importante quella del Santo Stefano. E' la cosa che più mi ha entusiasmato perché io sono, sapete, sono molto affezionato all'idea del varietà, dello spettacolo in generale ma soprattutto ai Christmas special. Io ho un'affezione particolare per tutti quelli che sono stati i tentativi di Christmas special e gli esperimenti che sono stati fatti nel mondo. E' una cosa molto forse americana, proprio nata in America credo negli anni 60 con Dean Martin, poi continuata con Frank Sinatra, Elvis fece un Christmas special bellissimo, Bublé lo ha fatto per 10 anni e quindi poi come potete vedere la parabola scende sempre più in basso fino ad arrivare al mio. Però assicuro che al di là di quello che poi farò io, che non starà a voi giudicare se è bello o meno, ma mi sono impegnato per garantirvi quantomeno uno standard di show alto contornandomi di grandissimi professionisti. Musica, risate e tanta danza. La big band che mi accompagnerà è una cosa meravigliosa. Pino Perris ha messo assieme 30 strumentisti meravigliosi, i brani sono tutti riarrangiati, tutto quello che ascolterete è suonato dal vivo, riarrangiato dalle sapienti mani di Pino Perris e quindi ci siamo dati molto da fare. La musica è protagonista ma non è un concerto di Natale, ci tengo a dirlo perché solitamente in queste feste poi si fa sempre il solito concerto di Natale con la Kermesse di ospiti che arrivano uno dopo l'altro a cantare White Christmas, questo non lo è. Ci sono degli ospiti che vengono a deliziarci con le loro cose ma tutto comunica tra la greca. Tutti i reparti si parlano tra loro, la danza, la comicità, la musica, è tutto sviluppato in maniera molto organica. La famiglia, la famiglia io quando posso sapete che sono molto legato alla mia famiglia di origine, torno spesso a Napoli dai miei e onestamente per me Natale significa proprio restare vicino alle persone care, soprattutto ai miei nonni fino a quando ce li ho avuti. Insomma è importante goderseli perché non abbiamo tanti Natali da poter condividere assieme ai nostri cari e quindi tutti quelli che possiamo passare con loro vanno passati in famiglia. Allora, lo spettacolo sta andando molto bene, meglio del previsto, soprattutto pensando che è il mio primo spettacolo, quindi forse Kafka mi sembra che diceva uno è uguale a niente e io non ho uno storico, quindi nessuno si può aspettare qualcosa da me a teatro. Per questo motivo il pubblico quando arriva in sala lo fa con un gesto di fiducia enorme, io cerco di ricambiare quella fiducia proponendo uno spettacolo spero originale e sta andando bene, le persone vengono e se ne vanno quasi sempre stupite proprio perché non c'è un precedente. La cosa che più mi dà soddisfazione è vedere le persone che dopo all'uscita dal teatro mi incontrano e mi dicano sai che sono venuto qua, credevo vedendo quello che fa in televisione di vedere una cosa simile a quella, invece ne ho trovato un'altra che mi è piaciuta anche di più. E quindi forse grazie a quella reazione io ho pensato di portare quella dimensione teatrale in televisione per far vedere anche alle persone che non sono ancora state a teatro o che verranno a teatro cos'è che faccio quando non faccio i programmi che voi magari conoscete. L'augurio che mi faccio è di conservare questa dose di entusiasmo e di ricercare sempre, di sposare sempre, mettermi in condizione di imparare cose nuove, di contornarmi di persone che hanno da raccontarmi, di insegnarmi tante cose, insomma non perdere mai questo entusiasmo.